ciao a tutti e benvenuti o bentornati su il tubo di french 11 oggi siamo alle prese con un titolo che avrete probabilmente già visto grazie al video di qualche altro youtuber straniero tipo pdp o qualcuno italiano tipo favij e siamo infatti con turbo dismount qui siamo all'inizio insomma c'è questo bel tramonto del cazzo insomma e qui abbiamo praticamente questo livello lo scopo qual è scatafasciarsi la faccia per terra e fare il maggior numero di danni possibili quindi cominciamo subito con questo livello ecco qui abbiamo la moto ma io direi che possiamo cambiare il veicolo e prendere un bel carrello della spesa ecco e messi così ecco con la nostra bella faccina in primo piano verso il tramonto e oltre direi direbbe anche qualcuno e quindi facciamo un bel così attenzione 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 aia no sbagliato aia vediamo cosa succede aia aia e si strascina a tutta la schiena aia la testa cosa nel culo tra l'altro la con la coda non ha gamba forse si è fermato lì così ecco così può vedere benissimo la faccina e attenzione 3 2 1 e c'è il nuovo record per questo livello vabbè che anche un po diciamoci la verità un po un livello delle balle insomma è perché non è che sia poi bellissimo qui c'è il replay potete mandare avanti più veloce più lento potete fare un po quello che volete ecco qua c'è il primo impatto una bella cozzata sulla colonna vertebrale non ce la toglie nessuno e vabbè cambiamo livello insomma andiamo avanti eccoci qua siamo nelle fognature in questo caso quindi vediamo un pochettino ecco però non questa volta allora intanto mettiamo gli ostacoli noi partiamo lassù quindi subito lì come mettiamo subito un bel turbo pad così ci fa fare un bel saltino e poi cambiamo anche veicolo e mettiamo mettiamo ecco tipo la cadillac una macchina lunghissima sta roba vediamo la posa ecco la posa un po da figo di hollywood anni 70 ci sta là c'è un camion che passa e che ovviamente ci darà del figlio da torcere pronti no 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 sbagliato pronti pronti via attenzione subito il pad ci dà la spinta cade a terra aia si è già scatafasciato tutto il camion non ci ha preso aia 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 a tra ecco abbiamo perso una gamba e un braccio non è proprio un bello spettacolo da vedere ma abbiamo fatto un nuovo un nuovo record e qui c'è il replay e un po attenzione dvd hollywood prende la rincorsa salta sniak ecco guardate qua tutti i danni trauma cranico costole rotte varie ossa rotte interi provi ecco ci ha preso anche il camion allora cambiamo veicolo mettiamo il triciclo il triciclo col triciclo si fanno danni pronti via tra l'altro dovrebbe anche ma cosa fa non riesce neanche a saltare attenzione ma il camion porca bastarda vediamo se ne arriva un altro cosa come è rimasto rimasto sta cambia il pannolino praticamente nella posizione per cambiare il pannolino vabbè qui c'è un altro replay ma no noi cambiamo livello e siamo qui in un uno contro uno contro questa macchinina rossa rossa dove vai eccola qua vediamo ecco guardate che bella macchina ma cos'è sta cos'è quelli che si guidano senza patente sono noi prendiamo il nostro ma è quando non c'è proprio storia però cambiamo il modo di viaggiare della nostra macchina attenzione ora non mettiamo troppo forte sono sbanda da subito invece noi vogliamo farla sbandare per conto nostro attenzione qui attenzione manca la prima rampa prende la seconda attenzione rampissima incredibile super volo guardate qua ballerino alla gamba la vedo male aia porca bastimento ecco la macchina nostra è rimasta laggiù e l'ho vista comunque il record era un po più alto tra l'altro abbiamo completato questo dismount ma rivediamo ecco rivediamo andiamo subito rivediamo la posa da ballerino vi faccio rivedere perché era effettivamente era bella ecco guardate qua rotea su se stesso tanto qui sempre il tramonto non cambia mai e qui attenzione dopo questa rotazione a 360 gradi si ferma in posa plastica avviciniamo si ferma in posa plastica tipo ballerino del del teatro la scala di milano non so se si balla la scala forse si si suona so ma non so vabbè comunque ballerino ecco di broadway ballerino di broadway guardate qua che presa plastica guardate con la nostra faccina in primo piano e poi la caduta ecco rovinosa perfetto dai facciamo ancora una cambiamo di nuovo il modo di stersere mettiamo completamente dritto no ma che completamente dritto uh quasi velocità massima attenzione hanno cambiato anche la macchina di fianco a noi è una gara uno contro uno si avvicina prima rampa prende del tappetino secondo tappetino super niente abbiamo dato tutta spinta dobbiamo rifarlo però ecco per bene attenzione partiti l'altra macchina non c'è già a c'era con la peglia di cappate attenzione se seconda gara prende il primo tappetino secondo tappetino simbola contro cosa sbattuto contro il nulla perché ma dai ha finito lo schermo libero ma io non lo so vabbè e questo invece signori guardate qui siamo nello space program praticamente abbiamo otto il cartello praticamente abbiamo ecco questa super rampa altissima dove che ci dovrà portare verso l'infinito ed oltre e qua guardate partiamo vediamo subito ecco cambiamo posa un po da finocchio ecco qua perfetto lo vedo male e si parte super velocità e siamo già capottati al contrario dobbiamo dare meno velocità ecco partita attenzione se per dobbiamo dare ancora meno velocità eccoci partiti attenzione se capotta resta proganciato prende il tappetino vai si niente abbiamo capito che l'errore è la posa eccoci guardate qui attenzione guardate che culetto vabbè allora facciamo una cosa ecco partiamo così target attenzione attenzione primo tappetino vola no è caduto è caduto guardate ah ah ecco sparito è ricomparso ah ma dai ma che schifo ma io voglio che si cappotta bene che si distrugge mettiamolo ecco saluto bene per ben attenzione partito rimane agganciato prende l'altro tappetino si invola sempre più in alto no non ce la fa più attenzione la macchina finisce la benzina si gira aia 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 caduto dietro no guardate qua cazzo una portiera attenzione uia porca miseria senti proprio le ossa che si rompono fa proprio fa male solo a sentirlo questa cosa qui vabbè andiamo avanti il replay non ci interessa facciamo un volo ora eccolo qua super velocità attenzione speriamo che riesca almeno a salire cosa succede no ho sbagliato io super velocità attenzione attenzione qui la macchina si gira quasi prende anche la seconda rampa si rimette dritta non ce la fa più porca c'è la miseria attenzione aia non rimasto dentro o un cofano o la macchina la macchina ci ha preso no non ci ha preso record record bene signori questo sostanzialmente turbo dismount noi mentre ci gustiamo questo replay andiamo un po più veloci per vedere giusto il volo volo d'angelo eccolo qua mentre ci gustiamo questo volo guardate qua manca solo il paracadute e con questo sfondo che guardate è perfetto è praticamente tale quale a gta 5 è uguale è uguale proprio la grafica uguale direi noi inquadriamo il nostro bel faccino e mentre ci stiamo per schiodore per terra noi ci diamo appuntamento con il prossimo video io vi ringrazio e vi saluto così pronti sì ciao